Musica Hi people of youtube, welcome to a new episode of le foglie dell'imperatore A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata di questo splendido gioco che non ho mai avuto la possibilità di finire Per una semplice ragione, la versione che avevo io su PS1, arrivato al livello finale si bloccava Non sono mai riuscito a finire il gioco perché il gioco non me l'ha mai permesso Arrivavo all'ultimo mondo, caricava, basta, non andava avanti E credetemi che sta roba mi è rimasta qui nel cervello fino ad oggi E siccome molti di voi avete optato per un gioco PS1, ho deciso di scegliere questo E con questa versione santo cielo, sembra un gioco uscito oggi Veramente la qualità è incredibile Abbiamo due scelte, la numero 1, la numero 2 e la 3 è già stata presa La 2 è quella che mi è sempre piaciuta di più come animazione Quindi iniziamo una nuova partita Salvataggio in corso Benvenuto Capitolo 1, il villaggio Però vi ragioni le parti del film non ve le posso mostrare Però tutte le parti animate, beh, diciamo che ve le faccio vedere tranquillamente Guardano lì, lui quanto è odioso Quanto è odioso quel bambino L'ho sempre detestato Fin da quando ho giocato per la prima volta sto gioco Veramente Allora, ve lo dico già adesso Questa non sarà una 100% run Perché appunto è una mia rivisitazione di questo gioco Quando lo facevo da bambino Quindi lo giocheremo al meglio sicuramente delle mie possibilità Ma non in maniera perfetta Questo già ve lo posso anticipare Certo, cercherò di prendere tutte le monete Come il gioco vorrebbe che chiunque facesse Ma diciamo che punto più al contenuto in sé Quindi al gioco, scusatemi, devo l'invertire Ecco qua Ecco fatto Quindi completeremo questa serie per bene Con una qualità che veramente Wow È incredibile Forza, voglio uscire da questo villaggio e da questo corpo Per tornare a palazzo e realizzare Cuscotopia Se non costruisci Cuscotopia Non ti mostro la via del ritorno Ebbè certo Non scendo a patti con i contadini Allora non ti riporto indietro Ebbè certo Troverò da solo la via del ritorno Sicuramente No È troppo pericoloso Resta vicino alla capanna Ho sistemato sassi e pietruzze per segnalare le gocce letali Le gocce letali La 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 Tanto non ti sento E non prendere i soldi dai villi I villi ci sono miei sudditi Quindi quelle monete sono mie Eh c'hai ragione I sassi Cosa vuol dire le gocce letali Scusami Uno dove sono Questi sassi Due che cosa sono le gocce letali Vabbè Ah forse Quelli sono i sassi Boh chi lo sa Vai Premendo il tasto azione Puoi rompere quei vasi rossi Lo so grazie Bene ho voglia di spacciare qualcosa Tra l'altro Il tasto azione nel mio cervello ancora oggi Fa partire una frase Fa partire una frase che ora vi dirò Ora Cusco Tre due uno Nella notte più Buia Questa cosa me la porto dietro da quando sono bambino E non me ne vergogno Credetemi È una cosa stupidissima ma mi fa ridere Signora no Premi il tasto azione Per parlare Signore Mio padre dice che puoi usare i tasti camera Per votare la telecamera Io non so neanche cosa sia Beh bravo Uccellini Allora Come ho detto Questa non sarà una perfect run Però tutti i livelli che mi ricordo Dove sono le cose Punto di controllo Non ci perdiamo neanche troppo E andiamo subito a prenderle Molti livelli Ve lo dico già adesso Non me li ricordo al 100% Però per esempio il primo Tutto il primo capitolo dovrei Ricordarmelo per bene Dovrei ricordarmelo Tranquillamente Com'è fatto E non dovrei avere problemi A raccogliere Calmo A raccogliere tutto via Sto coniglio Via anche questo perché Mi è antipatico Ecco fatto Tra l'altro Alcune zone segrete Se non ricordo male Sono a Cusco Ok Sono accessibili solo Una volta sola Se fallisci o se esci Poi si chiudono E' sinceramente un buon modo Per uno farti rigiocare il livello Due per comunque Spingerti a giocarlo bene Tu puoi saltare premendo il tasto salta Ma non riesco a trovare il mio tasto salta Io non riesco a trovare il mio tasto salta Madonna poverino E Ecco qua C'è un problema Che come sempre Appligge la mia mentalità Di giocatore Con certi giochi vecchi E che Non riesco a fare Benemente locale Della distanza Di alcuni salti Questo disco Solleva le colonne Per formare le scale Presto Prima che si riabbassino E perché non ci stai tu sopra? Perché non li fai restare in piedi per bene Quando premi il disco? No Non dirmelo Sei tu il cervellone in famiglia Madonna mia Ste battute Forca visere Quante rambelle Veramente Ti facevano apprezzare Il titolo Nella sua interesse Salto Guarda che salto Ti facevano apprezzare il titolo Veramente Nella sua pienezza totale Madonna mia Che spettacolo Che erano sti giochi Veramente Puoi aprire le porte Posizionando il vaso Sul disco Premi azione E i lama Prenderanno i vasi Eh beh certo Come sei arrivato Così in fretta? Ehi E' un gioco Ehi E' un gioco Non essere impertinente Ti sputa in faccia Ah poverino Butta su sto vaso Ecco Punto di controllo Di nuovo la bambina Per caricare Premere il tasto carica Mentre stai correndo Raccogli le pozioni lama Per ricaricare L'indicatore rosso Va bene Sì E se riesco a prendere 5 monete Il livello dell'indicatore Aumenterà E' biologia la mesca Biologia la mesca Allora bambino Io Non ti sopporto Veramente Non mi prenderai mai Eh certo Vuoi che lo faccia davvero eh Ma giornata mia Allora fammi prendere Un po' di pozioni Perché tanto In questa parte Non riusciamo a prenderti Devo prenderti In questo pezzo Preso Devi tagliargli la strada Per prenderlo Prendi il mio idolo rosso Non lo dice? Ah ah Addio per sempre Addio bambino Peccato che invece Lo rivedremo Troppe volte Sto bambino Con gli idoli rossi Cusco Eh certo Grazie Donna mia Sto bambino Se gli tira Quanto mi sta sulle balle Lui Tra l'altro mi sembra Un filino lento In realtà la corsa Ma magari è solo Il mio ricordo Che era molto più veloce Una volta Ma in realtà È sempre stato così Prendiamo il punto di controllo Ah cavolo Ho schiacciato X Punto di controllo Anche se in realtà Non serve Però Prendiamolo lo stesso Credo di aver preso Tutte le monete in zona Vero? Punto di controllo Tra l'altro In teoria Questo pezzo qua A noi Se volessimo fare speedrun Nei simili Basterebbe veramente Che con la carica Arriviamo Esattamente In quell'angolo lì In quel pezzettino Di E di terra Ma Per amore del gioco Noi Prendiamo Tutto come il gioco Dovrebbe essere preso Ovvero con calma Seguendo il percorso Ehi Pacia Ma tu non lavori mai? Alla larga Da quel vecchio albero Cusco È molto fragile Vuoi dire Marcio? Vuoi dire Marcio? È vecchio Lascialo in pace È certo Forse lo farò Forse no Niente carica Intorno all'albero Capito? Certo Che palle Questo non mi ascolta mai E io gli ho dato la carica Ciao Pacia Oh che palle Gli avevo detto di non fare la carica Attorno all'albero Non mi ascolta mai Allora Ecco qua Mettiamo il vaso Che Uno Apre quel percorso Ma due Ci apre anche quest'altro percorso Quindi Ecco fatto Uno E Due Segreto numero due trovato Arrivando un lama Due Dove sei? Qua Dovremmo Riuscire a farcela Con tutte quante Ho sempre la paura Di aver lasciato Una sola moneta in giro Sono quelle paure che Veramente Quando devi fare Completismo Non ti Calmo Non ti lasciano mai In pace Veramente Poi Ecco qua La seconda parte Dove dobbiamo proseguire In questo livello In questa zona Troverai un orsacchiotto Il mio orsacchiotto Il mio orsacchiotto Quanto me lo ricordo Stefarty Un orsacchiotto ti permette Di continuare Se quando muori Ne hai uno Riprenderai Dall'ultimo punto di controllo Ehi tu Come sai tutte queste cose? Non ne ho la minima idea Non ne ho la minima idea Brava Allora Uno Due Sto saltando Guarda che salto La distanza Come vi dicevo Questi giochi vecchi Io Faccio una fatica tremenda A volte A calcolare bene La distanza di salto Ma perché a volte Non capisco La profondità Di certi pezzi Ecco qua Quarantasette E orsacchiotto Gli orsacchiotto ci Servono per riprendere Dai punti in cui moriamo Spero di morire Il meno possibile Ma Non si sa mai Gli umani possono guardarci Intorno Muovendo la testa Ma i lama Devono usare Il tasto guarda E certo Non hai niente Di meglio da fare? Usa il tasto guarda Per vedere L'idolo rosso Sulla statua Certo Che non è là sopra E non lo vediamo Tranquillamente No 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 Deve usare Il tasto guarda Ecco fatto Ora 50 monete Perfetto 51 Ce ne mancano Solo 4 Che so precisamente Dove sono Quindi prendiamo Questi 3 vasi Prendilo 1 Ecco qua Bello lui 2 Prendilo Bravo Andiamolo a mettere A questa parte Ed infine Ultimo vaso Lo andiamo a mettere Sulla terza piattaforma Che è Cotesta qui Vai 3 4 Ecco fatto Per fortuna poi Non scompaiono E non cadono nel vuoto E L'ultima Ecco qua Buia Buia Possiamo proseguire Vediamo Livello completato Vigio 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 Grazie per la visione!